Ripassi la ciclista delle manovre mentre rulli al punto d'attesa. Sai perfettamente che in quello stesso istante anche gli altri tre stanno facendo la stessa identica cosa. Non li senti. In cuffia ho vattato il suono sordo del 9-12. Ma sai che lo stanno facendo tutti. Ti fidi di loro e loro si fidano di te. Questo è lo spirito del volo in formazione. Tanti piloti e un solo cuore. Un unico grande aereo costituito da quattro parti perfettamente uguali. Un unico grande aereo semplice nella sua struttura ma difficile da costruire e mantenere efficiente. Unito da tanto allenamento, tanta disciplina, tanto sacrificio. Sì, ma anche da tanta sincera amicizia. Tutto questo mentre rulli al punto d'attesa. Chiuso come gli altri nei tuoi pensieri. Fin quando alla fine in cuffia senti... Quattro parti, fai via. E il pensiero diventa uno suo. ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.